Mastermind scatola della Invicta del 1972 scatola superiore il divisore interno in cartone e la scatola inferiore con le istruzioni quindi le istruzioni non sono comprese all'interno della scatola ma sono sulla scatola stessa illustreremo il contenuto della scatola per i collezionisti non faremo vedere le regole o come si gioca se non in modo molto sommario il contenuto della scatola inizia con una plancia dove si è fatta di fori contenitori per i pioli e lo schermo che serve a coprire il codice 72 pioli colorati nella scatola c'è scritto circa nel senso che sono un pochino di più comunque 12 per colore almeno almeno 30 pioli bianchi e neri per segnare i pioli colorati che sono stati indovinati o meno gioca in due un giocatore sceglie il codice e lo copre per non farlo vedere ad ogni colore indovinato e nella giusta posizione si metterà un piolo nero per dare l'informazione a chi deve indovinare da questa parte invece il piolo bianco è la segnalazione di un piolo indovinato ma nel posto sbagliato che devi indovinare a questo punto farà un altro tentativo mettendo degli altri pioli e il chi ha generato il codice metterà i pioli neri e bianchi in questo caso due pioli neri vuol dire che ci sono due pioli al posto giusto colorati al posto giusto quindi il rosso e il bianco e uno che invece al posto sbagliato in questo caso il blu il gioco prosegue con il decifratore che farà un altro tentativo e chi ha generato il codice gli darà le indicazioni con i pioli a questo punto sono state indovinate tre pioli giusti del colore giusto al posto giusto quando il decifratore vince se vince prima dell'ultimo tentativo i ruoli si invertono quindi chi creerà chi era decifratore creerà il nuovo codice e avrà come avversario naturalmente l'altro giocatore vince chi avrà fatto più vittorie e verrà segnalato con da questa parte della plancia mastermind della invicta 1972 iscrivetevi grazie ciao 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 ciao